Ciao ragazze, allora questo video è per lanciarvi un nuovissimo concorso con Roventa e questo concorso l'abbiamo pensato assieme con quelli di Roventa spero davvero che vi piacerà perché secondo me è una cosa molto originale e insomma spero davvero che vi piacerà, fatemelo sapere perché vi dico subito che la vincitrice passerà una giornata intera con me, quindi sarò io a raggiungere in qualsiasi posto d'Italia tu ti trovi, futura vincitrice, io ti raggiungerò, arriverò da te e passeremo tutta la giornata assieme tra i trattamenti di bellezza sarà insomma una giornata tutta dedicata al mondo della bellezza e quindi insomma, e poi avremo soprattutto l'occasione di conoscerci che insomma il fatto di poter incontrare una di voi e passarci tutta la giornata assieme a chiacchierare insomma mi rallegra molto, quest'idea mi piace un sacco e appunto fatemi sapere se piace anche a voi quindi adesso mi sa che è arrivato il momento di spiegarvi cosa dovete fare per partecipare se volete partecipare dopo che vi ho detto cosa, il premio insomma quale sarà è semplicissimo in realtà partecipare a questo concorso che si svolgerà su Instagram quindi mi raccomando dovete avere un profilo Instagram e deve essere anche pubblico quindi numero uno dovete farvi un selfie insomma nella vostra cameretta dove volete un selfie con il vostro prodotto Roventa Beauty oppure Roventa for Elite e poi pubblicare questo selfie su Instagram gli hashtag che dovete utilizzare sono allora hashtag a day with Nicole, magari ve li metto in sovraimpressione poi hashtag Roventa e poi hashtag kiss and makeup 01 e poi dovete taggare anche la pagina Instagram di Roventa che è Roventa Beauty Italia troverete anche questo qua sotto, vi metterò tutto in sovraimpressione come dicono in tv quindi la foto più bella, la foto più carina insomma vincerà e la ragazza che avrà scattato quel selfie che sarà in quel selfie passerà una giornata intera con me quindi sarò io a raggiungerla in qualsiasi posto d'Italia lei si trovi, quindi il concorso è già iniziato perché praticamente è iniziato il 26 di settembre quindi da questo momento potete già iniziare a postare le vostre foto con gli hashtag mi raccomando ed il tag è la pagina Roventa che vi ho detto il concorso scade quindi avete tempo fino al 22 di novembre quindi insomma direi che c'è un bel po' di tempo e questo mi sa proprio che è tutto ragazze, io vi mando un bacio gigantesco spero ancora una volta, ve l'ho detto già 700 miliardi di volte però spero ancora una volta che questa nostra idea vi sia piaciuta, vi stia piacendo, vi piaccia insomma io vi mando un mega abbraccio, tanti baci, alla prossima, ciao Musica 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 Musica